Smorrighi ci ha mandato un pacco che abbiamo molto apprezzato è la valigetta in collaborazione con Andy Axe dove all'interno si possono trovare diverse cosuccine uno è un coltellino svizzero che non ha il coltellino ma bensì ha diverse cosucce come il cacciavite Torx, Astella, Brugola una piattella che serve ad eliminare quelle maledette monete da due centesimi sui set ha diverse brugole a tre sedicesimi, quattro e anche tre questa è molto molto utile all'interno troviamo anche altre brugole due, due e mezzo, tre, quattro in più un'altra brugola con tanto di piattella che serve sempre ad eliminare quelle monete da due centesimi che non si possono più vedere, perciò compratevi almeno questo tape americano che serve sempre serve spesso, perciò è buon averlo e altri tape colorati, ne abbiamo uno giallo, uno rosso, uno blu e uno verde che sui set si possono usare per avrappare qualcosa o anche per segnare il pavimento dove c'è il treppiedi per segnare la posizione degli attori e via dicendo, quindi sempre buono averle una pompetta, in questa sezione qui, una pompetta per pulire la camera e un pennellino molto morbido per pulire sempre l'attrezzatura e questa per pulire sempre le lenti non manca anche un panettino in microfibra se la metto a fuoco marchiato small rig set di viti con passo inglese non lo so, questa mettiamola in bianca e nero perché sicuramente l'ho cannata comunque sia un set di viti che ha un passo particolare perciò non sono viti che trovate in ferramenta perciò sono molto molto utili molto molto carino anche questo case marchiato small rig dove abbiamo vari spazi per CF, SD, micro SD CFA e via dicendo sembra anche waterproof sicuramente non l'immergerà in acqua però al tatto è molto solido e per finire abbiamo un cavo HDMI nella tasca superiore che viene assicurata da un bottone un cavo HDMI full HDMI HDMI full tutte e due e dei strap per il cable management li mettiamo qua dentro e in più una tasca secondaria questo qui è un compartimento molto comodo magari per tenere uno storyboard un ipad e via dicendo è sicuramente un kit una valgettina che sul set può fare la differenza a